Saverio, ero nato per fare l'attore, un talento naturale, un genio. Com'era papà? Come te, il più bello di tutti. Si mangiava la vita. Seconda, ben arrivata. Una famiglia un po' allargata, intercontinentale. Chi è lei? Sulbe, l'ultima figlia. Ma la meno importante. Stefania è come la madre. Tre figli da tre padri diversi. E il padre dell'ultimo, di dov'è? Della Giamaica. Esotico. Dobbiamo essere pronte alle dieci, va bene? Non ci facciamo aspettare per piacere, non ci facciamo aspettare. È morto qui, vero? Proprio in questo letto. Proprio qui doveva immettere. Le mie figlie sono le mie vere donne. Ma quanto sei strunzo, Saverio. Ma lei prima, che cosa intendeva quando diceva che c'è ancora molto da sapere su Saverio Crispi? Doviamo fermarlo, Rita. Non vedi l'ora che arrivi il suo momento? Una volta mi hai detto, non ho mai pensato molto alle donne. Non le ho mai capite fino in fondo. Facevo quello che si aspettavano. Ma perché loro hanno pensato tanto a me? Ma loro voi lo sapete? No. Ciao mamma. Ciao, ciao. Il mio fidanzato, salutalo. Secondo voi potrebbe andare bene per domani? Grazie, mascazzone. Come hai potuto? Tu sei la mia sorella. Io non volevo, io sono svedese. Tu sei una cretina. Voglio raccontare una cosa che non ho mai raccontato a nessuno, capito? Zitta, dai zitta. Ciao. Ciao. E scegli. Dimmi quando tu verrai Dimmi quando, quando, quando E baciandomi dirai Ci sono degli altri colpi di scena? No, perché guarda, fermate la proiezione perché io non li voglio sapere, va bene? Buone notizie per i fan di Tom Cruise. La Paramount Pictures ha annunciato una variazione sulla data di uscita di Mission Impossible 5. Evidentemente i lavori stanno procedendo nel migliore dei modi, a tal punto che la produzione ha deciso di anticipare la release, passando dal 25 dicembre al 31 luglio 2015. che è un periodo particolarmente caldo per il box office americano. Nel cast del film, accanto a Tom Cruise, rivedremo Jeremy Renner, Paula Patton, Ving Rhames e Simon Pegg. Grazie per averci seguito. Ciao da Valeria.